C17 salva Goku e Vegeta da Jiren. Nell'episodio in cui C17 salva Goku e Vegeta da Jiren si nota che questo avviene quando Jiren scaglia contro di loro un attacco che avrebbe comportato la loro eliminazione dal torneo. C17 quindi decide di usare la tecnica dell'autodistruzione e accetta di morire nella speranza che il suo sacrificio possa aiutare Goku e Vegeta a trovare la forza e la soluzione per sconfiggere questo combattente dell'undicesimo universo di nome Jiren.